Quando si è accorta che questo Pisapia registrava le conversazioni dentro la casa sua? Beh, questo è uno degli elementi del complotto, perché io lo vengo a sapere prima da un giornalista a cui era stato offerto questo dossier. Ma quindi erano già state fatte le registrazioni? Non era stato ancora arrestato, raggiunto da misura interdittiva e non c'erano stati ancora degli arresti, durante la fase delle indagini, ma onestamente non spetta a me come provavo il complotto, gli elementi si sono costruiti nel tempo, io nel tempo ho acquisito tanti elementi di cui oggi sono in possesso, che prima non conoscevo, c'era la voce di Pisapia che abbiamo scoperto essere una persona oggi affidata alla giustizia che rubava e non potevo certo fidarmi di una persona che sosteneva questo.